Sono due anni che parlano anche pubblicamente di Mbappé come se fosse normale e noi abbiamo tante volte comunicato alla Madrid che non eravamo contenti con questa situazione e hanno parlato in tanti come se fosse una cosa normale, prima o poi vieni qua, prima o poi vieni qua. Io penso che questo sia una cosa da sanzionare, perché non è un comportamento normale, perché c'è un'altra cosa, io con tutto il rispetto a tutti i giocatori, ma noi stiamo parlando di uno dei migliori al mondo, io penso che non sia giusto un tipo di approccio a un giocatore per tanto tempo così, uno parla, l'autore parla, l'altro parla, il giocatore parla, questa è una cosa che è diventata un po' troppo. Quindi oggi se arriva un momento che è l'ultimo anno di contratto è arrivato a questo, ma c'è stato sicuramente per quello il rispetto del Madrid e penso che è stato una mancanza di rispetto.